Quello del 21 aprile è stato un Consiglio dei Ministri infuocato, forse il più difficile dell'era Draghi. Sulla questione delle chiusure e dell'orario del coprifuoco si è sfiorata la rottura nella maggioranza. Alla fine Mario Draghi è riuscito però a far passare un decreto con cui si mantiene il coprifuoco alle 22 almeno fino al 1 giugno, anche se per la verità i ministri della Lega si sono astenuti. Anche le decisioni relative alla scuola inserite nel provvedimento lasciano l'amaro in bocca a molti. Dal 26 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle secondarie di secondo grado. La presenza è garantita in zona rossa dal 50 al 75%, mentre in zona gialla si potrà arrivare al 70 o anche al 100%. Rispetto alla prima bozza del decreto aumenta così dal 60 al 70% il limite minimo per le secondarie di secondo grado in presenza. Con le regioni però era stato concordato il tetto del 60%. Addirittura in qualche caso era stato chiesto al governo di scendere al 50%. La ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, intervistata dal quotidiano La Sicilia, parla di marcia indietro e afferma in tre mesi sulla scuola sono stati fatti grandi annunci ma anche grandi ripensamenti. Dopo aver detto che sarebbero ritornati in classe tutti gli alunni, infatti il governo ci ripensa un indietro tutta che ha una ragione ben precisa, ovvero non si è fatto quel potenziamento dei tracciamenti che era l'unica vera misura necessaria per garantire la sicurezza nelle classi. Altrettanto critico il grillino Gianluca Vacca che afferma tutte le riaperture del 26 aprile sono state confermate tranne quella sulla scuola ed è odioso vedere come ancora una volta i diritti dei ragazzi passano in secondo piano. Anche la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini avrebbe voluto fare di più in tema di riapertura a scuole e lancia un'imbettiva contro i sindacati affermando sarebbe bastato allungare l'anno scolastico così come aveva dichiarato il presidente del consiglio Mario Draghi in Parlamento e i sindacati invece non lo hanno permesso e dunque per colpa loro ci troviamo a dover reinventare le metropolitane che volano. Il fatto è che a distanza di un anno dal primo lockdown restano ancora ampiamente irrisolti i problemi legati ai trasporti che come è noto sono di competenza delle regioni e soprattutto nessuno sembra preoccuparsene più di tanto con il rischio che a settembre ci si possa trovare ancora di fronte alle stesse difficoltà. Francamente se così fosse sarebbe davvero inaccettabile. Su questo argomento ovviamente noi continueremo a tenervi informati quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci mandateci i vostri commenti le vostre osservazioni noi come di consueto ne daremo conto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.